Luciano è da ieri che continua a dirmi la seconda la tiriamo dentro cosa vuol dire la ritiriamo dentro? la tira dentro un po' e la lascia così no no ritraccia ritraccia già nera ritraccia tra l'altro serve più gente che faccia assistenza ai pali che saltano le bandierine che saltano fuori c'è poca gente che sta girando a mettere a posto